solipso di andrea schiavone la decompressione lo sbuffo lo strappo non mi abituerà mai a quei suoni quando il cavo elettromagnetico si stacca dalla porta pineale il solito struscio viscoso mi riporta alla realtà la permanenza è durata più del solito questa volta lo capisco dagli arti intorpiditi dalla gola secca e dal gorgoglio allo stomaco le ombre della notte si allungano nella vasta sala cibermediale penetrando dalle strette fessure dei finestroni blindati mi riscuoto ancora stordito dall'esperienza immersiva estremamente realistica ne avevano avvertito che l'elaborazione di informazioni tramite il nuovo modello biocibernetico b ciberplus richiedeva necessariamente dalle tre alle sei ore per completare la scansione e restituire l'output dei dati ma sono sicuro che quella maledetta apparecchiatura mi ha tenuto bloccato nella realtà virtuale più del dovuto troppo quando infatti ero giunto nel laboratorio per farmi inserire quel viscido cordone semiorganico nella scatola cranica erano solo le prime ore del mattino mentre ora l'atmosfera di locus 6971 dietro i vetri lucidi è così torbida che non lascia dubbi sul reale tempo trascorso le sottili polveri di tungsteno opprimono l'aria del pianeta come di consueto in quelle ore notturne e incominciano a sferzare le lamine dell'edificio dando inizio al fragore metallico che si placcherà solo nelle prime ore del mattino al tramonto delle due lune noto solo in quell'istante che nessuno è accorso a darmi il bentornato nella dimensione reale le luci al di là della sala monitoraggio sono spente un bianco asettico mi circonda accecando i miei occhi resi sensibili dal brusco passaggio dal buio alle luci artificiali dottor bennett dottor hoffstatter grido liberandomi dal resto delle fibre inorganiche collegate alle sinapsi nessuno mi risponde un insolito silenzio grava nello stanzone rimandando la sua eco sorda ma dove siete finiti tutti tutto tace nel laboratorio che ora mi sembra così diverso e straneo il consueto lonzio incessante dei macchinari in funzione è scomparso così come l'intermittenza iridacente dei led sui monitor e il gracchiare meccanico della voce computerizzata mi appare tutto surreale circondato da un silenzio assordante rotto solo dalla pesante polvere battente oltre i vetri un sottofondo molesto che accresce la mia angoscia forse mi trovo ancora nella dimensione virtuale o è semplicemente un sogno una percezione straniante di quel mondo familiare o tenebrata da un nuovo plugin del software o dal sonno profondo resto immobile è perplesso per un tempo incalcolabile tutto sembra essersi cristallizzato anche lo scorrere dei minuti atmosfera statica e l'odore intenso dei capi semi organici che ristagna tra le candide pareti mi precipito alla porta d'ingresso digito febbrilmente il codice di sicurezza e pannello si apre scorrendo verso l'alto il corridoio è deserto le porti adiacenti sono sbarrate e gli oblò dei pannelli mi appaiono come occhi vitrei che mi salutano freddi e indifferenti al mio turbamento dal fondo dell'andito un suono impercettibile richiama la mia attenzione si accresce progressivamente in risonanze metalliche cadenzate è il primo segno di vita che percepisco dal mio risveglio ma ne sono allo stesso tempo confortato e terrorizzato quel silenzio opprimente che mi circonda fa risuonare l'impercettibile etichettivo in modo assortante insopportabile per le mie sensibili orecchie il mio respiro si arresta i muscoli sono intorpiditi bloccati dalla paura e dallo sconcerto mentre rimango in attesa aspettando che la fonte di quel suono finalmente si riveli un sospiro di sollievo sgonfia la mia anguscia mentre i narvi si rilassano e finalmente riprendo a respirare davanti a me avanza il clan boat l'automa inserviente che strofina i suoi rulli smacchianti lungo il liscio lastrecato ormai privo di impronte umane le funzioni automatiche del cyborg sono ancora attive allora ma perché ogni traccia umana sembra scomparsa dal laboratorio mi affletto all'uscita deciso di far ritorno a casa e a far luce su quel mistero percorro il lungo corridoio spopolato affacciandomi a tutte le soglie semichiuse e gli oblò ma ad ogni occhiata non faccio altro che avere conferma della sensazione che mi attanaglia e riscuota in me un terribile presentimento mi sembra di essere rimasto solo penso alla mia famiglia mentre imbocco il portale d'uscita e mi incammino per il vialetto in pietra locusiana a quell'ora avrei dovuto trovare mia moglie e mio figlio già a casa ma se non fosse stato così se anche loro fossero scomparsi smetto di pensarci e accelerò il passo la bruma serale mi costringe a rallentare cercando di penetrare tra le sottili polveri che aleggiano nell'atmosfera le strade deserte questa volta non mi sorprendono come consueto nelle ore serali di locus 6971 l'innalzamento della polvere di detriti costringe i cittadini al coprifuoco ormai da anni che questa condizione affligge i locusiani da quando il piccolo disabitato pianeta fu adibito a colonia della terra i lavori di edificazione furono numerosi le multinazionali delle merci sintetiche avevano trovato terreno fertile dove poter erigere le loro fabbriche in quel territorio privo di vegetazione e organismi viventi ma nel corso di appena 50 anni le scorie si erano depositate direttamente al suolo a caso dell'atmosfera più densa del territorio che trasformava gli scarti nebulizzati delle industrie in detriti solidi che si riversavano impietosamente su tutta la superficie del pianeta una situazione ambientale di cui le amministrazioni non avevano tenuto conto ignari delle spiacevoli conseguenze a cui avrebbero dovuto far fronte locus 6971 era ormai destinato all'abbandono da lì a pochi anni mentre già le fabbriche trasferivano le proprie sedi sulla prossima colonia spaziale i cittadini come me intanto vedevano sfumarsi sotto il naso quel sogno di prosperità e ricchezza in cui avevano creduto trasferendosi dalla terra ormai in degrado a un pianeta in pieno processo di sviluppo il mio impiego al laboratorio come collaudatore di software cyborg mediali era ormai l'unico motivo che ancora mi tratteneva su quella landa impolverata persa nell'oblio siderale e lontana ogni luce dalla mia patria percorro le cupe strade dell'area industriale fino ad addentrarmi finalmente nella sezione residenziale mentre mi ritornano alla mente i mille rimpianti e tanti progetti falliti e gli insuccessi familiari come avevo potuto trascinare i miei cari in quella frontiera senza futuro il senso d'ansia intanto si accresce fermenta ed esplode in pensieri funesti immagini vertiginose in cui vedo mio figlio dissolversi in una nuvola di denso fumo tra un ultimo disperato appello d'aiuto a cui non riesco rispondere trattenuto da catene invisibili e impietose che mi costringono ad assistere alla sua fatale trasmutazione in nebbia evanescente ormai impalpabile inafferrabile sono incubi ad occhi aperti in quel tragitto verso casa tra il pulviscolo sempre più fitto un quartiere silenzioso nessuno schiamazzo turba gli ordinati viali della sezione 9 il borgo più alto locato di locus 6971 la lunga striscia di villette a schiera si prolunga apertita d'occhio sono case tutte uguali indistinguibili anche per chi le abita costeggiano il lungo bulvare in pietra levigata e svaniscono all'orizzonte fino all'avvallamento oltre il quale si stagliano le alte ciminiere delle fabbriche in costante produzione nelle ore notturne il fumo si fonde e si confonde con la sottile polvere sferzata dalle raffiche di vento restituendo ai cittadini uno spettacolo infernale quando raggiungo finalmente il mio alloggio quelle immagini inquietanti tornano a tormentarmi la mia testa si fa pesante le gambe cedono e mi lascio cadere a terra il respirare si fa sempre più affannoso la polvere mi ostruisce le narici e mi entra nei polmoni sento che sto per svenire con un ultimo sforzo raggiungo il pannello d'accesso faccio scorrere il tesserino magnetico di identificazione sui sensori e mi fiondo all'interno l'aria terza della mia casa mi rianima riacquisto la lucidità il sistema di decomposizione dell'anticamera impedisce alla polvere di penetrare riordino i pensieri e cerco di far luce sull'inspiegabile serie di avvenimenti che si sono susseguiti dopo il mio risveglio mi rendo conto di essermi trattenuto troppo all'esterno respirando quei sottili detriti tossici ed è forse stata questa la causa delle mie allucinazioni ma ancora non riesco a trovare senso a quell'improvviso desolamento il laboratorio il quartiere e ora anche la casa sembra abbandonata al buio e al silenzio mascia leonard dove siete grido aggirandomi negli spazi insolitamente vuoti della casa la ricerca di mia moglie di mio figlio attivo la ia del sistema domotico con il comando vocale attivazione domovox bentornato a casa levin mi saluta l'impersonale voce meccanica domo ricerca posizione mascia e procedi con scansione spostamenti giornalieri ordino alle laboratorie artificiale mentre mi lascio cadere sulla comoda poltrona del soggiorno scansione abbiata attendere procedura mi risponde la ia cerco intanto di rilassarmi nella speranza che il sistema riesca a fornirmi finalmente qualche risposta sull'inspiegabile dileguamento collettivo che fine avevano fatto gli umani erano sprofondati nelle viscere di quel pianeta condannato all'irreversibile fine o forse si erano vaporizzati nell'aria come le scorie di quelle fabbriche maledette la voce robotica mi ridesta delle mie divagazioni mentali scansione completata dati non trovati che cazzo vuol dire mi rialzo di scatto dalla poltrona in preda allo sconcerto forse un errore di sistema un intoppo alla connessione gli spostamenti dei cittadini sul pianeta venivano regolarmente registrati sia dalle laboratorie elettronico centrale sia dai singoli sistemi domotici a disposizione di ogni famiglia un voto della schedulazione giornaliera sarebbe stato impossibile domo riavvia la scansione tento una seconda volta l'avviamento della procedura e trattengo il respiro nei due minuti necessari per il caricamento canzione completata dati non trovati dati non trovati ripete la voce fredda e apatica della ia mi sembra di vivere un incubo senza uscita tutto ciò non ha senso ma il mio bisogno di risposte si fa sempre più forte necessario per non impazzire per non perdere il contatto con la realtà e le mie certezze devo capire cosa diavolo è successo su quel pianeta mentre ero alle prese con la realtà virtuale del sistema di cyber provo a impostare una nuova ricerca domo ricerca posizione leonard scansione completata dati non trovati domo ricerca posizione dottor peter bennett canzione completata dati non trovati domo ricerca posizione dottor marcus hoffstatter scansione completata dati non trovati è inutile ogni traccia umana è svanita ogni tentativo di dare un senso a questo inspiegabile fenomeno risulta vano provo a ripercorrere ogni istante che ha preceduto il mio ingresso nel laboratorio di ricerca e l'avvio del nuovo programma bio cibernetico mi accorgo in quel momento del completo vuoto di memoria è come una falla oscura nel complesso intrico di ricordi persistono solo sprazzi di immagini confuse distorte indefinite il tentativo di riallacciarmi a quel recente passato mi procura una forte emicrania ma sono costretto a smettere la spiegazione dell'enigma risiede forse proprio in quel vuoto in quelle immagini sfuggenti negli ultimi anni ero sempre più vittima dei temporanei stati di disconnessione dalla realtà ogni notte mi sembrava di sprofondare in voragini buie e verticose risvegliandomi sudato e disorientato questa destabilizzazione questa realtà al limite del surreale in cui mi trovo ora potrebbe quindi essere solo l'ennesimo incubo causato dall'eccesso di lavoro penso eppure mi sembra tutto così reale così autentico mi abbandono al caldo abbraccio della poltrona ormai snervato fisicamente mentalmente dalle circostanze oscure ripenso la mia famiglia svanita nel nulla come ogni essere vivente su quella colonia dimenticata la stanchezza prende ormai il sopravvento le mie palpebre sono sempre più pesanti e la mia testa ciondola e si adagia allo schienale mentre i pensieri si accavallano sempre più frenetici nella mia mente fino a compiere un viaggio retroattivo negli sconfinati e fumosi spazi dell'immaginazione tra le confuse visioni del dormiveglia ripenso la mia vita un'esistenza di completa dedizione al lavoro che ho spinto dall'entusiasmo e dai mille progetti ormai inattuabili nell'ultimo decennio i sistemi di biocibernetica avevano fatto passi da gigante l'utente aveva la possibilità di interagire con i computer senza un'interfaccia fisica era in presagio della definitiva integrazione uomo macchina capace di trasfigurare l'aspetto fisico del reale con i nuovi modelli di cyber di dennet e offstatter l'utente poteva sovrapporre al mondo la propria visione in un processo di realtà aumentata estremizzato ed io voglio fare parte di quel progetto a tutti i costi consapevole dei progressi rivoluzionari che la nuova tecnologia avrebbe apportato alla società mi spensi fino a quell'angolo di universo incurante delle esigenze delle richieste della mia famiglia nella mia mente c'era un unico pensiero ossessivo avere successo e fare soldi come avevo potuto essere così egoista e forse questa la punizione che mi merito rimanere solo ripudiato dalla famiglia e dagli amici forse è così la mia famiglia aveva deliberatamente abbandonato quel pianeta corrotto lasciandomi ai miei assurdi e ostinati esperimenti senza futuro ma come si spiega allora la scomparsa dei miei colleghi e di tutti i locusiani potevo mai essere io il solo ad avere ancora uno scopo per trattenermi su quel pianeta sterile le ombre ormai si infittiscono e il baratro sotto i miei piedi si allarga sempre più fino a farmi sprofondare nell'oblio nel sonno e nella dolce incoscienza sento il mio corpo fluttuare nel vuoto seguo il richiamo ammaliante di una voce incorporea intorno a me il buio assoluto una voce lontana come una tenue defimere scintilla è l'unico punto che rifulge tra le gelide ombre profondo nell'abisso attraversando la luce trascendendo i miei sensi la mia carne sono pure senza immateriale anima invisibile intangibile ripiombo nella realtà tra la polvere della desolata locus 6971 tra le mura della mia casa masha e leonard siedono al mio fianco sul soffice sofà del salotto mi sorridono dai volti plastici a immobili cristallizzati in un ghigno grottesco e inquietante provo a chiamarli a scusarmi grido i loro nomi li imploro di ascoltarmi di ritornare da me ma le mie labbra si muovono mute le parole si perdono già prima di compiersi fino a strozzarmi fino a farmi ansimare e svenire mentre tutto scompare in una vampata di vapore rossastro che pare per venire direttamente dagli inferi mi trovo ora per strada dall'alto del promontorio in cui culmina il bulvar della sezione 9 il mio sguardo si allunga sulla fosca ballata le ciminiere si levano al cielo livido come guglie di una cattedrale è la conquista della nuova religione il dogma delle industrie il trionfo sublime del dio denaro intorno a me riecheggiano urla e sussulti in un vertiginoso sviluppo percettivo centinaia di ombre anime perse palli di spettri dai volti familiari o mai conosciuti compaiono e scompaiono si muovono al mio fianco in una macabra sfilata mi mormonano all'orecchio parole terribili come soffiate delle fauci spietate di demoni sono fetidi e fluvi mefitici mi invitano alla morte ad unirmi alla loro schiera immortale mi incitano al suicidio al definitivo distacco dalla carne a rinunciare all'indegna putrefazione del corpo sono spiriti seducenti e maligni mi trascinano ai bordi del dirupo in un richiamo irresistibile il fascino della morte della fine dell'abisso poi il salto la caduta e l'impatto mi risveglio ansimando sono ancora sulla poltrona ma non ho il coraggio di rialzarmi sento di aver perso il controllo del mio corpo potrei avere qualcosa di rotto le vibrazioni ancora corrono dentro il midollo in ogni osso e attraverso ogni nervo mi guardo attorno e tutto sembra immutato ma quell'incubo sconcertante ancora mi tormenta con le sue immagini di morte mi sento radice dell'inferno con ancora i postmi incubici a scuotermi dal profondo fino a smuovere le più condite paure i miei timori inconfessati e le inaccettabili consapevolezze prende corpo nella mia coscienza un terribile dubbio se fino ad ora avessi vissuto in un sogno se tutto ciò di cui serbo memoria non fosse altro che un mondo di illusioni forse sono solo sono sempre stato solo i ricordi di una vita serena della famiglia degli amici appartengono solo ad un passato remoto o ad una vita da me mai vissuta realmente ma un'ipotesi ancora più tremenda si fa largo nei miei pensieri e se il confine tra la vita reale e quella virtuale si fosse affinato a tal punto da rendere le due dimensioni indistinguibili probabilmente tutto ciò che sto vivendo non è altro che un prodotto del sistema cibernetico ma come può essere così reale così tremendamente concreto le mie emozioni sono autentiche lo sento dall'angoscia alla paura tutto mi dice che ciò che sto vivendo accade realmente ma se fosse solo un sogno come fare per risvegliarmi e se fosse una realtà virtuale come fare per disconnettermi niente da fare tutto conferma l'ipotesi più tragica tutto è vero sono solo e lo resterò per sempre condannato a marcire su quest'oasi decadente dell'universo circondato da comfort da unità robotiche compiacenti e inesauribili privato della compagnia dei miei simili ogni traccia umana sembra scomparsa dissolta nel lettere come i vapori delle fabbriche ancora in funzione subordinate al ciclo continuo delle macchine sono l'unico superstite di una razza ormai estinta una polide disperso nei meandri più oscuri della galassia ogni cosa perde ormai senso vedo la mia vita sprofondare in una voragine ogni speranza eclissarsi e sbiadire fino al definitivo inaridirsi del mio spirito fino alla perdita fatale al distacco da me stesso leving sono le otto in punto la voce metallica dell'ia mi distoglie dal flusso di pensieri è ora di cena i piatti saranno in tavola fra due minuti resta immobile ipnotizzato dall'automatismo e dall'efficienza del sistema domotico dall'imbandire minuzioso delle posate dei vassoi e delle pietanze fumanti sull'ampio tavolo del salone in cui è accostata un'unica sedia sarà una cena solitaria come lo è sempre stata e come lo sarà per sempre il panico si accresce si impossessa delle mie facoltà svuotandomi di ogni energia ormai privo di senno e autocontrollo mi muovo negli spazi bui della casa guidato da una forza invisibile da un'abitudine meccanica che mi spinge a consumare il pasto consueto sono una macchina senza più coscienza senza più il controllo di me stesso rispondo al ritmo scandito da un programma prestabilito non sono più io a usufruire delle macchine sono loro che controllano me sono schiavo e prisioniero di un'esistenza vuota ogni domanda scompare ogni ricerca di risposta si arresta il vicolo cieco di una realtà imperscrutabile mi chiedo cosa sia vero in quel mondo mentre addento la gelatina di carne in un gesto automatico quasi involontario quando in un lampo germoglia ed esplode un'irruzione violenta istintiva e viscerale affiorando dal mio io più profondo mi alzo di scatto e scaravento i piatti sulle piastrelle traslucide delle pareti un preda alla furia mi ribello a quella forza oppressiva ora so cosa fare come evadere da quest'incubo mi precipito all'esterno la polvere più fitta che mai nell'atmosfera mi sversa il viso soffiata dal vento come se volesse trattenermi come se volesse ricacciarmi tra le sicure e disumanizzanti mure domestiche ma il mio passo non si arresta chiudo gli occhi e mi faccio largo tra il denso pulviscolo ciò che mi anima è una determinazione furiosa un gesto risolutivo necessario fatale raggiungo la meta è il promontorio al culmine del boulevard della zona residenziale all'orizzonte si stagliano come sempre le ciminiere fumanti delle industrie uno spettacolo agghiacciante che si allunga a perdita d'occhio il dirupo è vicino mi raggiungo il bordo scosceso e strucciolevole mentre un ultimo pensiero mi attraversa la mente se è un sogno forse mi risveglierò se è un'illusione virtuale forse tornerò alla realtà e se invece è tutto reale riuscirò almeno a porre fine a questa inaccettabile esistenza l'ultimo respiro mi riempie i polmoni di polvere tossica ma niente ha più importanza ormai mi lascio cadere nell'abisso e attendo all'impatto la morte la decompressione lo sbuffo lo strappo ben tornato tra noi signor pierce la voce familiare del dottor hofstatter dissolse del tutto la patina granulosa dagli occhi di levin riportandolo sul lettino del laboratorio sulla terra e nel mondo reale devo ammettere che le sue reazioni non erano state previste dai test preliminari soggiunse il dottor dennett staccando gli elettrodi e i tubi in fibra ottica dal simulatore elettronico o professore questa volta è stato così realistico disse con voce roca levin filandosi il casco per i test immersivi credo di avere addirittura sognato erano visioni mostruose ed i miei muscoli ancora fremono per l'impatto al suolo sì lo sappiamo abbiamo monitorato tutti i suoi movimenti ma l'aspetto emozionale è stato rischioso a mise con tono grave il dottor hofstatter le sue pulsazioni cardiache erano troppo accelerate i parametri psicovisibili andrebbero riconfigurati non essere sempre così pedante marcus lo rimbrottò il collega dopo tutto lo scopo primario non era il perfezionamento dell'interfaccia ma l'output recettivo del nostro levin pierce già ed è stato negativo sussurra marcus hofstatter con un sospiro di delusione beh signori sappiate che vivere in un mondo come locus 6971 è stato davvero un incubo intervenne levin risollevandosi dal lettino in polietilene immagino e in fondo ne eravamo già coscienti disse il dottor dennett rivolto al collega l'idea di spedire un essere umano su una colonia industriale di un altro sistema solare privandolo della famiglia della compagnia dei suoi simili avrebbe solo conseguenze negative e controproducenti ma non capisco una cosa professore si intromise nuovamente levin ormai ridestatosi completamente il ruolo che svolgevo su quel pianeta era simile a quello che nella realtà svolgo per il vostro centro di ricerca mentre il candidato per la missione da quello che ho capito dovrebbe svolgere un semplice incalico di manutenzione delle unità robotiche per conto delle industrie interplanetarie questo è rilevante disse con tono placido il dottor dennett la costruzione del suo avatar virtuale si è automaticamente adattata alle sue conoscenze e alla sua dimensione inconscia ma lo scopo del programma solipso era quello di testare la reazione di un essere umano in una condizione di abbandono totale e di completa dipendenza dagli androidi levin scosse la testa in segno d'assenso poi il suo sguardo cadde sul lettino vuoto di fianco al suo i suoi occhi si spalancarono e si illuminarono come due fanali rivelando l'improvviso affiorare di un ricordo rimosso ma dottor dennett il mio amico luke ramsom che fine ha fatto non si preoccupi si è semplicemente sconnesso prima di lei lo rassicurò il professore la reazione del signor ramsom al programma crusoe è stata invece estremamente positiva a quanto pare io e il dottor hoffstatter c'eravamo sbagliati un uomo può sopravvivere in solitudine ma solo se messo in un contesto conosciuto in un habitat naturale mentre in un mondo totalmente artificiale seppure ricco di comfort rischia di andare incontro alle catastrofiche conseguenze che lei ben conosce in ogni caso il suo amico potrà raccontarle di persona la sua esperienza disse il dottor hoffstatter con un sorriso abbonario è qui fuori ad attenderla credo allora che lo raggiungerò se non ci sono altri test a sottopormi chiese levin pierce dirigendosi già verso l'appendi abiti per recuperare la sua giacca no per oggi è tutto può tornare a casa e grazie per il suo tempo lo concedò il professor dennett stringendogli la mano è quindi stato anche piacevole la voce di levin riecheggiava tra le mura del lungo corridoio del centro di ricerca universitario sì che lo è stato gli rispondeva l'amico dal sorriso smagliante e dallo sguardo ancora rapito da quelle immagini così realistiche non ci posso credere sei sempre il più fortunato a me capita praticamente un incubo ad occhi aperti e tu invece ti godi una vacanza gratuita sulle spiagge esotiche di un'isola deserta si lamentava scherzosamente levin ma no non è stato poi così semplice me la sono dovuta cavare da solo per trovare cibo costruirmi un riparo per le intemperie e cercare di sopravvivere ad aggressioni di animali feroci raccontava la voce candida di luke ransom tu invece da quello che mi dici eri praticamente servito e riverito da uno stuolo di robot servizievoli non era poi così gradevole come puoi pensare confessò levin con voce mesta ancora angosciato al solo ricordo di quell'esperienza terribile mi sentivo come annullato completamente assoggettato a qualcosa di artificiale avevo perso ogni istinto ogni desiderio e soprattutto mi sentivo solo ero arrivato anche ad attribuirmi la responsabilità per quella mia condizione un senso di colpevolezza che mi ha spinto fino ad un avventato gesto autodistruttivo era uno stato d'animo indescrivibile una solitudine che spero di non provare mai in vita luke notò lo sconcerto ancora vivido negli occhi dell'amico gli cinse le spalle in un abbraccio cogliardico e prese a scompigliargli i capelli in modo affettuoso stai tranquillo che fin quando ci sarò io tu non resterai mai solo ti seguirei anche fino all'ocnes 6941 gli sussurrò nell'orecchio con tono cospiratorio era locus 6971 cretino puntualizzò levin sorridendo mentre cercava di liberarsi dalla stretta dell'amico beh che differenza fa tanto nemmeno esiste e poi ne ho le scatole piene di questa realtà virtuale pensiamo a goderci quella vera per ora disse seccamente lo scanzonato luke ok 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 e allora che ti va di fare stasera non lo so ancora ma prima di ogni altra cosa ho bisogno di una birra era l'unica cosa che veramente rimpiangevo su quell'isola deserta grazie a tutti grazie a tutti